Ciao Robert Ciao Che stai facendo? Messaggio con Noemi E chi è Noemi? È la mia conquilina dell'Erasmus in Irlanda Ancora vi sentite? Certo, in estate c'è l'ospite sua per 15 giorni e un suo video Winston Churchill nel 1946 dice Esiste un rimedio che in pochi anni renderebbe tutta l'Europa libera e felice Dobbiamo costruire gli Stati Uniti d'Europa Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi firmano a Roma i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea A Bruxelles viene firmato il trattato sulla fusione delle esecutive All'Unione Europea si aggiungono Danimarca, Irlanda e Regno Unito Negli Stati membri si svolgono le prime elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale Per l'adesione della Grecia gli Stati membri della Comunità Economica Europea diventano 10 Nel 1985 viene firmato il trattato di Schengen All'Unione Europea si aggiungono Portogallo e Spagna 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino Nel 1992 viene firmato il trattato di Maastricht 1 novembre 1993 nasce l'Unione Europea Nel 1995 all'Unione Europea si aggiungono Austria, Finlandia e Svezia 1 gennaio 1999 entra in vigore l'Euro Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio proclamano la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 29 ottobre 2004 viene firmata a Roma la Costituzione Europea accantonata dai francesi olandesi tramite referendum Nel 2007 viene firmato il trattato di Lisbona Nel 2012 l'Unione Europea viene insignita del premio Nobel per la pace Con l'adesione della Croazia gli stati membri dell'Unione Europea diventano 28 La storia dell'Europa, la nostra storia, è frutto dell'impegno di leader visionari spinti dal desiderio di unire realtà sociali e culturali differenti La stessa storia ci insegna che le frontiere e l'individualismo nazionale portano alla misura emotiva e mentale che già in passato provocò le grandi guerre Dobbiamo essere uniti, aperti e rivolti al futuro Dobbiamo continuare a percorrere la strada fin qui tracciata per raggiungere gli Stati Uniti d'Europa Ma chi lo ha fatto? È un gruppo di ragazzi Erasmus, mi chiede di farlo girare Mandamelo, lo condivido sui social Fatto Facciamo arrivare a Bruxelles la voce di tutti i giovani come una sola